Parlando di alimentazione, ogni tanto escono delle ricerche che ci parlano di alcuni alimenti che aiutano in realtà il cuore. Cosa si può dire a questo proposito? Ecco, io direi che forse prima di parlare degli alimenti che aiutano il cuore, è meglio sottolineare quelli che danneggiano il cuore, che sono la causa principale di queste patologie. Gli elementi che vanno sempre tenuti con estrema attenzione sono gli acidi grassi saturi, e quindi un esempio banale, carni grasse, formaggi grassi che sono ricchi di colesterolo. A questi fattori il latte intero, che ovviamente è molto più ricco di grassi che non il latte parzialmente scremato. Gli insaccati, che sono a loro volta ricchi di certi tipi di insaccati che sono particolarmente ricchi di grassi. A questi fattori che già conosciamo da un po' di anni, oggi si tende a dare sempre un ruolo sempre maggiore importante anche all'eccesso di zuccheri nella nostra alimentazione. Lo zucchero viene usato moltissimo, moltissime delle bevande di provenienza molto americane hanno un elevato contenuto di zuccheri, e questi vengono a determinare un'aumentata attività del pancreas e un'aumentata produzione di insulina, la quale a sua volta genera i presupposti per favorire malattie infiammatorie, quindi anche aterosclerosi e quindi deposizione di grassi lungo le arterie. Invece gli alimenti che possiamo mangiare tranquillamente? Possono avere una funzione molto protettiva, sono i fenoli, sostanze che sono contenute ampiamente nella frutta, tutte nella frutta e nelle verdure molto colorate che contengono delle sostanze estremamente protettive per quello che riguarda la protezione soprattutto della superficie vasale. E quindi che cosa dire? Dire che una dieta che sia molto ricca di frutta e ricca di verdure è molto molto importante per cercare di limitare i danni dell'alimentazione ricca di carni o ricca di formaggi. In questi ultimi anni sono state anche molto valorizzate ad esempio le noci, le mandorle, tutte sostanze che sono ricche di acidi grassi insaturi e che anche hanno una percentuale di calcio importante e questo può essere importante soprattutto per la donna, la quale, in cui la privazione dei formaggi può a volte costituire un problema in quanto tende a diminuire l'apporto di calcio e quindi queste sostanze possono essere utili ovviamente in dosi equilibrate perché tendono ad avere un alto contenuto calorico e quindi possono altrimenti fare ingrassare possono essere molto utili per apportare anche quelle sostanze che vengono ridotte nella prevenzione dell'ateroscleris come ad esempio i formaggi. Senta, ma il famoso cioccolato? Cioccolato è considerato una sostanza esatto, quindi con un contenuto superiore al 70% è considerato importante, è un fattore perché è ricco appunto di queste sostanze protettive però anche qui con saggezza, cioè con una quantità intorno ai 20 mg al giorno quindi praticamente una quantità modesta può avere il suo ruolo importante senza ovviamente poi eccedere.